Il Molise è chiamato al voto per rinnovare domenica 10 giugno 14 amministrazioni comunali. Sono 10 centri interessati in provincia di Campobasso, 4 in quella di Isernia. In Basso Molise è Larino, il comune più popoloso, con quasi 6.800 elettori, di cui 1.200 residenti all'estero. Il sindaco Vincenzo Notarangelo non si è ricandidato. Nel centrofrentano sarà una sfida a quattro, tra Pino Puchetti, siamo Larino, Franco Rainone, noi per Larino, Vito Di Maria con il germoglio e Luca Fagnani, la rinascita. Poco più di 5.400 elettori a Guglionesi, di cui quasi 1.200 residenti all'estero. Dopo due mandati consecutivi, il sindaco Leon Tonacci non può ricandidarsi, ma poggerà Guglionesi nel cuore con candidato Giuseppe Durbano. Sono 5 in totale le liste in competizione in paese. Gianfranco Del Peschio con comunità e futuro per Guglionesi, Antonio Tomei, Guglionesi per tutti, Mario Bellotti, Guglionesi di parte e Giuliana Senese per il Movimento 5 Stelle. Colpo di scena a Colletorto, dove c'è una sola lista presentata, capeggiata da Cosimo Damiano Mele, un futuro per Colletorto. Nonostante i fermenti delle ultime settimane, in municipio non sono arrivate altre liste con relativi candidati. In questo caso occorre un'affluenza del 50% più uno degli elettori. In caso contrario, il comune sarà commissariato. A Montorio nei Frentani si ricandida il sindaco pellegrino Nino Ponte. Sfida con Andrea Albino, ma ci sono anche Enzo Cirella, Enrico Scigliano e Giampaolo Villano. A Ripabottoni si ripropone la sfida di cinque anni fa tra il sindaco uscente Orazio Civetta e Domenico Piedimonte, capogruppo di opposizione. In Lizza ci sono anche Fabrizio Picano, Carlo Evangelista, Nicola Barbiero e Francesco Di Vico. A vinchiaturo duello politico tra il sindaco Luigi Valente e Bernardino Primiani, tre i candidati a Oratino. L'uscente Luca Fatica, Orlando Iannotti e Roberto De Socio si vota domenica 10 giugno dalle 7 alle 23.